La certificazione dell'Agenas sull'assenza di disavanzi dei bilanci dell'ospedale San Carlo di Potenza e del CROB di Rio Nero va accolta con grande favore. Non bisogna però abbassare la guardia sul vero grande tema del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni da erogare in favore dei cittadini. E' il commento del capogruppo del Popolo della Libertà, Forza Italia, Michele Napoli, e i dati diffusi dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Per Napoli, l'analisi sullo stato di salute del sistema sanitario regionale, fondata solo su dati economici, non consente di coglierne appiene la qualità. Occorrono altri dati forniti dall'Agenas o dal Ministero della Salute che consentano di valutare le performance regionali rispetto ad indicatori quali l'appropriatezza delle cure e la loro efficacia. Limitarsi ad un approccio ragioneristico, precisa Napoli, evitando di valutare la qualità delle prestazioni, è riduttivo e mira a mascherare le evidenti responsabilità circa il regresso della sanità lucana.